C'è una Russia completamente diversa da quella di due o tre anni fa, più forte, che ha saputo reagire agli attacchi finanziari degli ultimi anni. Lo ha detto Vincenzo Trani, presidente di General Invest Group, che ha organizzato a Reggio Calabria un confronto sulle sinergie internazionali tra Italia e Russia per favorire la crescita economica dei territori. Nei rapporti commerciali con la Russia, ancora detto Trani, non ci sono molti imprenditori meridionali. È giunto il momento più adatto per investire, soprattutto nel settore del turismo, che è il settore principale e spero che il potenziale presente sappia apprezzare oggi le opportunità che saranno illustrate nel corso di questo incontro. Il sud Italia è quello che è la Regione, in particolare la Calabria, che più di tutti ha subito dopo le sanzioni, perché con l'esportazione di genere alimentare, quindi erano proprio dei prodotti chiaramente sanzionati in molti casi. Quindi è chiaro che un importante impegno va ora profuso per lo sviluppo di questo tipo di business in un momento in cui ci si aspetta l'annullamento delle sanzioni a breve. E c'è oggi un'opportunità importante per la Calabria. Molti operatori, dopo le sanzioni, hanno lasciato il proprio mercato in Russia, operatori non solo italiani, ma anche operatori di altri paesi europei ed extraeuropei anche. Per cui c'è ora un vuoto che va riempito. Questo vuoto è un vuoto importantissimo per una Regione che è in attesa di svilupparsi in questa direzione, ed è un vuoto non limitato solamente al settore agroalimentare, ma importante anche nel settore turistico. Sergei Razov, ambasciatore traordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Italia e nella Repubblica di San Marino, ha detto di riporre grande fiducia sul futuro, nonostante ha spiegato le vicende economiche che hanno determinato una riduzione molto drastica degli scambi commerciali, crollati dai 5 a 4 miliardi di dollari del 2013 ai 32 miliardi del 2015. Quindi ha indicato nell'agricoltura e nel turismo due settori su cui puntare. Ci sono dei problemi nell'economia perché il nostro interscambio bilaterale è diminuito, ma per questo ci sono dei motivi oggettivi. Questo è connesso prima di tutto alla caduta dei prezzi di petrolio che in realtà rappresenta una gran parte delle nostre esportazioni verso l'Italia. E poi c'è anche l'effetto delle sanzioni e delle nostre misure di risposta. Ma per quanto riguarda le sanzioni, credo che tutti sono già stufi di queste sanzioni. Per quanto riguarda la parte meridionale dell'Italia, intendo non soltanto la regione di Calabria, bisogna indicare prima di tutto le prospettive nel settore di turismo e dell'agricoltura. E in questo senso vedo l'evento di oggi molto utile, molto importante. Grazie. Grazie. Grazie.